Ben ritrovati qui con questa nuova puntata di Doppio Binario, di cosa parleremo oggi Gabriele? Parleremo degli strumenti anticrisi a disposizione delle imprese in questa difficile fase di rilancio e in particolare dei contratti di rete di solidarietà, grazie ai nostri ospiti che vi presenteremo tra poco. Allora stiamo qui pronti per partire con Doppio Binario? A tra poco? A tra poco. Un saluto a tutti gli amici di Le Fonti TV che seguono ormai, che seguito ormai così numerosi questo appuntamento periodico con Doppio Binario. Come anticipato in apertura in questa puntata di oggi parleremo dei contratti di rete di solidarietà, un'importante novità normativa che è stata di recente introdotta attraverso i provvedimenti emergenziali degli ultimi mesi ed è soprattutto finalizzata alla salvaguardia di quelli che sono i livelli occupazionali all'interno di quelle imprese che fanno parte di quei settori che maggiormente sono stati colpiti dal blocco dell'economia nazionale. Io ne parlerò oggi, approfondiremo quindi l'argomento sia dal punto di vista normativo ma anche con uno sguardo alla realtà imprenditoriale come di consueto succede qui in Doppio Binario e quindi passerei la parola a questo punto ai nostri ospiti che saluto e sono qui in studio. Iniziando dall'avvocato Raffaella Calamandrei, salary partner dello studio legale Lombardo, grazie per essere qui con noi. Buonasera, grazie a voi. E qui poi al mio fianco la dottoressa Benedetta Parziale, HR manager del gruppo DigiTouch. Grazie, buonasera. Buonasera a lei. Dunque, se voi siete d'accordo, io ho introdotto questo argomento forse anche non tanto noto ancora magari ai molti che ci ascoltano, ovvero i contratti di rete di solidarietà. Partirei proprio da lei, avvocato Calamandrei, al quale appunto un po' anticipato io, in realtà le chiedo di cosa si tratta, facciamo capire un attimo a chi ci ascolta di cosa stiamo parlando, ma soprattutto quali sono le finalità, anche se un po' l'ho anticipato, di questo importante strumento normativo, soprattutto in questo particolare momento. La legge di conversione del decreto rilancio ha introdotto un modello organizzativo molto innovativo per la gestione del personale impegnato nelle filiere produttive. Si tratta dello strumento del contratto di rete con causale di solidarietà, uno strumento nuovo introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 77 del 2020 che ha convertito appunto il decreto rilancio 34 del 2020. Con questa innovazione il legislatore ha aggiornato i principi e le regole del contratto di rete ordinario, in modo tale da consentire l'utilizzo di questo strumento per fronteggiare le pesanti conseguenze occupazionali derivanti proprio dall'emergenza epidemiologica in corso. Il contratto di rete con causale di solidarietà, dunque con finalità di solidarietà, mantiene la struttura del contratto di rete ordinario. Anche questo è un accordo plurilaterale con scopo comune, mediante il quale più imprenditori conseguono un obiettivo congiunto. Una caratteristica peculiare di questo strumento è data dal fatto che lo scopo comune ha carattere solidaristico. Che cosa significa? Significa la tutela dei livelli, quindi il mantenimento dei livelli occupazionali per le aziende che sono in organico, mentre l'inserimento o il reinserimento lavorativo per i soggetti che non sono invece ancora dipendenti delle imprese della rete. Va evidenziata inoltre la necessità di individuare uno scopo ben preciso, ovvero appunto, come dicevo prima, la tutela e il mantenimento dei livelli occupazionali per le imprese che fanno parte della rete, della filiera produttiva. A differenza della finalità del contratto di rete ordinario, appunto, è proprio questa. Infatti nel contratto di rete ordinario le imprese hanno l'obiettivo di accrescere e di migliorare la competitività sul mercato. In definitiva, possiamo dire che, appunto, così come disposto dall'articolo 43 bis della legge 77 del 2020, vengono introdotte, diciamo, alcune finalità precise di questo nuovo strumento. La prima riguarda, appunto, l'impiego di soggetti che sono lavoratori che stanno per perdere il posto di lavoro. La seconda finalità riguarda, invece, diciamo, l'inserimento di soggetti che, invece, hanno già perso il posto di lavoro. La terza, invece, è l'assunzione e l'impiego di figure professionali di rilievo che, appunto, vengono utilizzate per rilanciare le attività produttive. La ringrazio. Io passerei a questo punto alla dottoressa Parziale, alla quale chiedo, facciamo un passo indietro e andiamo a vedere un attimo cosa è successo durante il lockdown per capire se, da un lato, il legislatore si è, o meglio, più che il legislatore, in questo caso, dobbiamo dire, questi provvedimenti che sono stati adottati nell'ultimo periodo si sono mostri verso questa direzione proprio per salvaguardare tanti posti di lavoro. Cerchiamo, invece, di capire cosa è successo in una delle realtà imprenditoriali italiane. Come è la vostra società, dottoressa, ha vissuto questo periodo di lockdown? Quali sono state le criticità che avete affrontato? In che modo? Cosa ci può raccontare? Allora, comincerei proprio dall'inizio, nel senso che nel momento, appunto, in cui ci siamo tutti visti costretti a lavorare da casa, lo strumento dello smart working è quello che, in primis, tutte le aziende, per fortuna, sono riuscite ad adottare, in particolare, per quanto ci riguarda, seppur siamo una società che opera nel campo del digitale, le nostre persone non erano così completamente avvezze a lavorare completamente con la cultura dello smart working. Ma devo dire che in brevissimo tempo, e parlo veramente di una giornata, siamo riusciti a avere tutti i nostri 200 dipendenti in sicurezza a poter lavorare da casa. Questo, in primo luogo, ci ha permesso di continuare con la maggior parte delle attività lavorative e produttive che stavamo seguendo. Ovviamente, la crisi che comunque stavamo affrontando ha previsto e ci ha messo di fronte, però, anche a un calo di quello che era il business, le attività. Solo alcune, per fortuna, aree della nostra realtà sono state maggiormente impattate dalla crisi, anche perché, parlando anche di consulenza nel digitale, della digital transformation, alcuni clienti su cui operavamo, ovviamente anche loro a loro volta si sono trovati costretti a ridurre i budget a disposizione per la consulenza, per il market, per la comunicazione. In questo caso, quindi, abbiamo valutato e adottato quelli che sono stati messi a disposizione come ammortizzatori sociali. Devo dire che in poco tempo abbiamo avuto disponibilità ad accedere a questi ammortizzatori sociali. Per quanto riguarda la nostra realtà, siamo riusciti a, diciamo, laddove abbiamo deciso di mettere parte delle nostre persone in cassa integrazione, a rintegrare al 100% la cassa e questo per dare, prima di tutto, un po' di sicurezza e anche mantenere alto il livello motivazionale delle persone. Quindi, ecco, gli strumenti ci sono stati, sono stati anche abbastanza numerosi nel termine di che cosa le aziende potevano, appunto, su cosa potevano contare. Quello che forse è mancato in un primo momento sono stati i tempi corretti tra cosa veniva comunicato e quello che effettivamente poi si poteva fare, si poteva attuare. Quindi questo, vabbè, è un problema che credo in molte aziende abbiano riscontrato. Ritornando alla nostra, appunto, alla nostra realtà, devo dire che essere riusciti a lavorare in smart working in modo produttivo ci ha consentito di andare avanti, appunto, nelle nostre attività. Come dicevo, poi utilizzando alcuni ammortizzatori sociali che sono stati utili per le aziende. Ecco, io la ringrazio, proprio a questo poi mi collego, perché durante il periodo del lockdown tantissime realtà, non solo ovviamente la sua, come è noto, hanno utilizzato questi ammortizzatori sociali. Però a un certo punto gli ammortizzatori sociali non sono, come dire, infiniti, cioè ci sarà un arrivo, un punto di arrivo. E il problema è, appunto, come anticipavo in apertura, le imprese che maggiormente, magari non è forse il settore in cui operate voi, poi bisogna anche capire, però tantissime imprese hanno sofferto tanto questa situazione e continuano ancora a soffrire tanto, tant'è vero che c'è il rischio in ballo di tantissimi posti di lavoro nell'imminente futuro. Quindi, ritornando un po' all'argomento iniziale, così approfondiamo ancora una volta i contratti di rete di solidarietà, capiamo un attimo, ecco, con l'avvocato una nota di chiusura. Quali sono, in che modo questi contratti di solidarietà, in realtà, aiutano l'imprenditore a salvaguardare quelli che sono i posti di lavoro, quindi quali sono, appunto, le modalità con cui questi contratti poi raggiungono gli obiettivi e, soprattutto, andiamo al caso pratico. Come si costituisce un contratto di solidarietà? Capiamo, insomma, se ci sono degli step da fare. Cerchiamo di dare degli input anche a chi ascolta e vuole saperne un po' di più, no, magari. Per quanto riguarda il primo punto della domanda che mi ha posto, posso dire che le finalità e gli obiettivi di cui parlavo anche in precedenza possono essere realizzati con due strumenti, principalmente. Lo strumento della codatorialità e lo strumento del distacco semplificato. Quest'ultimo strumento, a differenza di quanto previsto dal Decreto Legislativo 276 del 2003, non richiede l'espressa individuazione di un interesse del soggetto distaccante. È come se vi fosse una sorta di presunzione legale di effettivo interesse al distacco da parte del soggetto distaccante. Dunque, gli obiettivi e le finalità di questo strumento dovranno essere realizzate, in pratica, attraverso un programma condiviso dai soggetti che hanno aderito al contratto di rete con questo tipo specifico di causale. All'interno di questo programma saranno indicati, in modo molto sintetico, i diritti e gli obblighi di ciascun soggetto partecipante. Per quanto riguarda, invece, il secondo punto della domanda posta, posso dire che una caratteristica peculiare di questo strumento, appunto, è il fatto della semplificazione degli adempimenti formali. Che cosa significa? Significa che in deroga ai principi indicati nel Decreto Legge numero 8 del 2009, il contratto di rete con questo tipo di causale può essere stipulato attraverso un accordo sottoscritto dalle parti con firma digitale e con l'assistenza delle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro. Dunque, vi è proprio una semplificazione, appunto, degli adempimenti formali. Infatti, come invece richiesto nel contratto di rete ordinario, non è richiesta, in questo caso, la stipula con la forma dell'atto pubblico o con la scrittura privata autenticata. Dunque, vi è una grossa semplificazione e una facilitazione alla stipula di questo accordo. La ringrazio. Io, prima di chiudere, ovviamente, questa prima parte della puntata a doppio binario, ritornerei dalla dottoressa, ovviamente, dalla dottoressa parziale, al quale voglio chiedere. Avete adottato tutta una serie di strumenti durante il lockdown, esattamente come tantissime anche altre realtà che ci hanno raccontato già nelle precedenti puntate, e già un po' l'ha anticipato, in realtà, nella precedente risposta. Ci sono state delle criticità o, comunque, in chiusura qualcosa che vuole, magari, far emergere da quel periodo e quindi, magari, c'è qualcosa che si può salvare da portare in futuro? Ci sono delle criticità che avete riscontrato che, magari, vi portano ad abbandonare, comunque, nel quotidiano alcuni strumenti oppure si possono, comunque, utilizzare successivamente anche per un futuro, insomma, per post-lockdown, come possiamo definirla? Una nuova quotidianità. La ringrazio perché, appunto, è proprio un punto che, anche durante quei mesi, lunghi mesi di lockdown, abbiamo voluto, comunque, soprattutto come risorse umane, sottolineare e condividere con le nostre persone. Perché l'importante era, comunque, cercare di imparare qualcosa anche da quella situazione. E per quanto riguarda la nostra esperienza, sicuramente, quello che abbiamo imparato è, prima di tutto, come accennavo anche prima, la possibilità, laddove è necessario, di lavorare in smart working, ma, soprattutto, di cogliere dello smart working quegli aspetti positivi che, anche in situazione di non emergenza, possono, senz'altro, essere di valore sia per le aziende che per le persone. Dall'altra parte, durante quei momenti, come, ritorno a dire, come HR, eravamo anche preoccupati, o comunque abbiamo cercato di cogliere dalle persone quali erano le loro sensazioni in quel momento, la forzatura di rimanere a casa, ovviamente, per fortuna, lavorando, però, comunque, in una situazione molto particolare di emergenza, abbiamo cercato di stare vicino, raccogliendo feedback, organizzando momenti, appunto, virtuali, in cui, anche, diciamo, in momenti più informali, post-orario di lavoro, per cercare, sicuramente, di tenere alto il morale, ma di avere sempre contezza di come stavano vivendo le persone questo momento. Quindi, l'insegnamento e quello che ci portiamo dietro è saper lavorare e trovare un'opportunità nel lavorare in smart working. Per quanto riguarda criticità legate ad altri strumenti che abbiamo avuto e abbiamo utilizzato in quei momenti, come, per esempio, quello che citavamo prima degli ammortizzatori sociali, alcune criticità, ma lo anticipavo anche prima, sono dovute, soprattutto, un po' ai tempi e alle modalità, anche, di comunicazione nei vari decreti, nell'attesa che uscissero, nella, diciamo, intempestività dell'uscita di alcune informazioni che potevano essere, invece, molto rilevanti per l'azienda. Quindi, un po' questo. La ringrazio. Dunque, allora, a questo punto non mi resta che lasciare i nostri amici che ci stanno guardando con pochissimi minuti di pubblicità, però restate qui con noi perché, ovviamente, ci sarà la seconda parte di Doppio Binario con i nostri ospiti, sempre in studio, e il mio collega Gabriele Ventura. A tra poco. E rieccoci di nuovo in studio per la seconda parte di Doppio Binario. Continuiamo a parlare degli strumenti anticrisi a disposizione delle imprese per puntare, chiaramente, a un rilancio e a un progetto di sviluppo. Io presento di nuovo i nostri ospiti, che erano presenti, chiaramente, anche nella prima parte. L'avvocato Raffaella Calamandrei, dello studio legale Lombardo. Buonasera, benvenuta. Buonasera, grazie. E la dottoressa Benedetta Parziale, HR Manager, gruppo Digitaccio. Buonasera. Buonasera anche a lei e benvenuta. Avvocato, partiamo da lei. Andiamo più sul lato pratico. Quindi, le chiedo, inizialmente, tornando chiaramente ai contratti di rete di solidarietà, quali sono le imprese che possono farne parte e utilizzare questo importante strumento? Certo. Possono far parte della rete tutte le imprese di filiera colpite da crisi economica, senza limitazioni connesse a requisiti dimensionali, senza limitazioni connesse a specifiche forme giuridiche e a prescindere dalla collocazione territoriale delle imprese che hanno aderito a questa tipologia contrattuale. Dunque, possono aderire e costituire la rete di impresa tutte le imprese indistintamente, quindi le imprese individuali, quindi le società, società di persone, società di capitali, le associazioni che non hanno scopo di lucro e gli enti, gli enti che hanno come oggetto l'esercizio di un'attività di impresa in modo prevalente o esclusivo, anche non commerciale. Secondo come risulta e come ci dice la circolare emessa da rete impresa sul punto e pubblicata lo scorso 15 settembre, il concetto di filiera è un concetto da intendersi in senso ampio e generico, nel senso che ricomprende gli ambiti produttivi e i settori di attività colpiti dalla crisi, senza essere un vincolo insuperabile per le aziende che intendono farne parte. Ciò che invece risulta una condizione insuperabile è la sussistenza di una situazione di crisi o uno stato di emergenza, come appunto ci dice la circolare emessa da rete imprese via l'esempio di epidemie, l'esempio di calamità naturali, di catastrofi, crisi di indotto industriale. Queste situazioni devono necessariamente essere dichiarate da un provvedimento delle autorità competenti che può consistere in una deliberazione del Consiglio dei Ministri o in un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che riconosce una situazione di crisi industriale complessa. Quindi in quel caso appunto non si può accedere a questo tipo di strumento altrimenti appunto è uno strumento diciamo ad ampio raggio che probabilmente può coinvolgere anche il vostro gruppo qualora appunto desideriate approfondire questo tema ma intanto le chiedo sempre in ottica di sviluppo come vi state organizzando effettivamente in questo post lockdown. Allora sì, diciamo che per tornare a quella che ancora chiamiamo una nuova normalità perché purtroppo ancora di normalità come quella che ci ricordiamo del prima della crisi non ci siamo ancora. Noi diciamo come azienda, come gruppo abbiamo optato per un diciamo un inizio graduale quindi a partire da quella famosa fase 2 in cui giustamente si è data un po' più di si è venuto fuori dal lockdown e si è data un po' più di libertà anche alle imprese di ricominciare a lavorare e di ricarsi in ufficio per la prima parte e quindi diciamo tendenzialmente tutto il mese ancora di maggio e giugno abbiamo invece preferito rimanere ancora tutti in smart working l'avevamo fatto per i precedenti due mesi e mezzo, tre, quindi era una cosa fattibile e quindi abbiamo ritenuto corretto laddove ce ne fossero le possibilità come appunto un'azienda come la nostra che lavora nel mondo digitale di rimanere in smart working. A luglio invece abbiamo optato per una riapertura su base volontaria quindi per cercare di riabituare le persone ma anche per dare la possibilità alle persone di rientrare in ufficio perché ormai la situazione anche diciamo quello che stavano provando le persone di completo isolamento per quanto riguarda le attività lavorative cominciava a essere un po' pesante quindi su luglio abbiamo cercato un po' di riprendere alcune attività organizzando qualche evento o riunione in ufficio ma per ripartire poi quella che appunto chiamerei una nuova normalità a settembre quindi al rientro dalle vacanze ovviamente predisponendo e organizzandoci in modo da attuare tutte le disposizioni le linee guida molto chiare che erano state date nei vari decreti per quanto riguarda la salute e la sicurezza per il rientro nei luoghi di lavoro quindi ovviamente stiamo proseguendo con uno smart working abbastanza intenso nel senso che è previsto una turnazione quindi la presenza in ufficio soltanto del 50-60% delle persone ogni giorno ma dando così la possibilità a tutti di rientrare poi ovviamente distanziamento sociale, mascherine e tutte le norme igieniche questo ci sta effettivamente consentendo di riprendere quel ritmo anche solo di interazione e di far crescere anche le nostre persone più giovani con una vicinanza che stavamo un po' perdendo quindi su come stiamo puntandolo per un nuovo sviluppo quindi a una ripresa oltre appunto a rientro in ufficio anche in particolare stiamo puntando molto sulla formazione perché un altro aspetto che questi momenti hanno paradossalmente abilitato maggiormente è quello di avere una formazione molto più fruibile in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione quindi siamo passati in breve tempo da una formazione prevista in aula a una formazione invece che prevedesse appunto corsi da remoto e consentendo alle persone di continuare questo apprendimento fondamentale per poi avere anche uno sviluppo verso appunto una ripresa che ci auguriamo e stiamo aspettando tutti Certo, poi chiaramente essendo un'azienda che è focalizzata proprio sul digitale immagino che siate stati anche tra virgolette avvantaggiati nel periodo del lockdown del lavoro da casa obbligato non avete avuto magari tutti gli inconvenienti tecnici che hanno avuto tantissime altre aziende però è importante quello che ossituinava cioè il fatto che comunque il rapporto umano resta fondamentale Ecco, Avvocato Calamandrei, tornando sempre ai contratti di rete di solidarietà l'accordo entrando appunto nella parte pratica deve prevedere una durata, un termine? Allora, i provvedimenti delle autorità competenti che dichiarano, come dicevo prima, la situazione di crisi o lo stato di emergenza rappresentano sicuramente il presupposto di partenza iniziale per la stipula di un contratto di rete con questa specifica causale ma non vincolano la durata dell'accordo che va determinato sulla base del tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità che le aziende aderenti si sono proposte questo significa che il contratto di rete non deve necessariamente contenere un termine di durata infatti, secondo la circolare elaborata da Reti Impresa e pubblicata lo scorso 15 settembre il nuovo comma 4 sexies che, per inciso, è uno dei tre commi che sono stati introdotti dall'articolo 43 bis della legge 77 al vecchio decreto legge numero 5 del 2009 prevede, questo articolo comma 4 comma sexies prevede un limite temporale alla possibilità di realizzare un accordo un contratto di rete è vero questo, ma è vero anche, dice la circolare Reti Impresa che la legge non vieta la possibilità che l'accordo abbia una durata che va oltre tale data in funzione sia delle finalità e degli interessi che sono stati dichiarati dalle imprese al momento della Costituzione dell'accordo sia in funzione della durata proprio del contesto emergenziale Certo, ecco, quindi, insomma, tornando a lei, dottoressa Parziale le chiedo, abbiamo parlato appunto di uno strumento che è stato introdotto dal governo le chiedo, parlando sempre di sviluppo lei prima ha citato la parte della formazione che è molto importante ma a suo avviso gli strumenti poi messi a disposizione dal governo, dal punto di vista delle risorse umane sono al momento sufficienti c'è anche tutta la problematica legata al lavoro agile la legge di riferimento è sempre quella del 2017 ma adesso parliamo appunto di una nuova normalità quindi probabilmente anche quella legge deve essere modificata le chiedo una riflessione in questo senso Sì, allora, premetto che gli strumenti, le iniziative diciamo, quanto messo in campo anche dal governo è stato veramente in termini quantitativi ma anche qualitativi significativo nel senso che sono state fatte tante cose sono stati appunto previsti tanti interventi e le aziende potevano appunto hanno potuto usufruire di tutti questi strumenti che sono stati messi in campo veramente tanti quindi un po' diciamo la criticità principale è stata quella di averli magari anticipati prima di che questi fossero poi realmente disponibili quindi a volte ci siamo trovati nella mia azienda ma immagino molte altre a avere delle aspettative anche da parte dei nostri dipendenti anche da parte dei clienti o dei fornitori di un certo tipo quando invece alcuni strumenti che erano stati anticipati non erano di fatto ancora disponibili quindi per fare un'estrema sintesi di dove siamo adesso adesso siamo nella situazione di avere veramente tante opportunità a disposizione alcune però stanno anche un attimo terminando diciamo il periodo di attuazione quindi diciamo ci aspettiamo anche noi si aspettano le aziende che ci siano delle nuove indicazioni e delle nuove normative che ci permettano anche di guardare un po' più in là rispetto alla fine di dicembre perché in questo momento siamo un po' diciamo preoccupati di quello che poi può essere poi l'immediato futuro certo poi appunto la prova dello stato di emergenza il 31 gennaio non deve essere chiaramente un alibi per lasciare un po' il tutto non definito non definito o in mano alle aziende senza una diciamo una normativa e anche una riforma più strutturale ma è comunque importante lo strumento di cui ha parlato lei avvocato e speriamo appunto che ne vengano introdotti anche altri in futuro io vi ringrazio per essere state con noi grazie a voi vi saluto avvocato Raffaella Calamandrei studio legale Lombardo arrivederci buonasera e la dottoressa Benetta Parziale gruppo DigiTouch grazie di nuovo grazie buonasera grazie anche ai nostri telespettatori per essere state con noi appuntamento alla prossima puntata grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori